E ben trovati a Pubblica Piazza, ben trovati alla nostra anteprima, vi presento e saluto il segretario regionale della CISL Paolo Tramonti, ben trovato, buon pomeriggio. Grazie per averci raggiunto i nostri studi di Vibbo, iniziamo questa chiacchierata, poi la proseguiremo nella seconda parte della nostra trasmissione per parlare di patto per la Calabria e di Porto e Gioia Torre, ma ne parleremo tra poco. Andiamo a noi, lei è segretario del sindacato della CISL Calabria da tanti anni, una vita proprio spesa per il sindacato. Sì, prima nelle federazioni, ho seguito in particolare il settore dell'industria, poi tutto il precariato, poi in segreteria provinciale di Cosenza, e poi il segretario provinciale del... Ha fatto la gavetta, insomma. Un po', sì, partendo da zero, si può dire. Ha fatto la gavetta nel sindacato e che cosa vuol dire essere a capo oggi di un sindacato così importante come la CISL? È cambiato molto nel corso degli anni la... Ma è cambiato molto perché, diciamo, tutto si riflette nelle condizioni economiche e sociali della nostra regione. La Calabria in questi anni purtroppo è regredita un po' sotto tutti gli aspetti, sociale, come si diceva, economico. La crisi ha picchiato duro e già su un tessuto debole ha inciso tutto questo, ha inciso maggiormente. Quindi ovviamente questo ha reso più difficile, più complicato anche il nostro ruolo, esercitare il nostro ruolo. E oggi purtroppo ancora non siamo usciti da questa condizione. Ecco, nel corso degli anni, ricordo anche nella precedente legislatura regionale, siete sempre stati molto combattivi, avete sempre lamentato comunque una mancanza di dialogo, di interlocuzione con il governo regionale. Ora con il nuovo presidente, il presidente Oliverio, come sta andando? Diciamo che noi non cerchiamo il confronto così come una moda. Noi lo cerchiamo perché pensiamo, proprio per le condizioni di cui si parlava prima, in cui versa la nostra regione, che ci sia bisogno del contributo di tutti. Ovviamente ognuno nel rispetto dei reciproci ruoli, delle proprie autonomie, però se oggi la Calabria è una regione che vive questa condizione così drammatica, è chiaro che bisogna fare squadra, bisogna fare rete. Quindi il nostro impegno va in questa direzione e bisogna dire che questo primo approccio con il governo regionale per alcuni versi è positivo per quanto riguarda l'apertura al dialogo e al confronto. E' chiaro che adesso bisognerà intensificare perché bisogna andare proprio al cuore dei problemi e vedere come incominciare a dare alcune risposte che le nostre comunità attendono da troppo tempo. Intanto una risposta che attendiamo da tanto tempo e forse insomma qualche cosa è uscita è quella sulla treno, il viadotto crollato, voi avete anche molto battuto su questo tema, avete detto che c'era bisogno di un programma chiaro, diciamo che ancora proprio chiaro non è. Ci parlano di luglio della ripertura all'autostrada. Il problema è che ogni qualvolta succedono problemi di questo genere che riguardano la Calabria tutto diventa indefinito, incerto, non si sa mai quando iniziano i lavori, quando finiscono, è un po' diciamo una costante nelle cose che riguardano la nostra regione. Ecco perché noi stiamo chiedendo che venga messo un punto fermo, siamo ormai nell'approssimarsi, nell'imminenza della stagione estiva, ci siamo di fatto già, la Calabria è una regione, lo dicono tutti e ne siamo pienamente convinti, ha forte vocazione turistica, è chiaro che non possiamo permetterci di saltare una stagione e il rischio concreto c'è. Ecco perché noi abbiamo detto, stiamo rivendicando da una parte tempi certi sull'avvio e il completamento delle opere di ripristino e allo stesso tempo stiamo chiedendo che in attesa che tutto ciò si realizzi, che vengano messe in campo delle misure alternative per quanto riguarda i treni, gli aerei. Quello che ha chiesto anche Oliverio mi pare c'è stata una... Noi dobbiamo fare in modo che la nostra regione sia più facilmente raggiungibile e si spezzi questo isolamento che comunque c'è già, quindi al di là dell'autostrada interrotta. Quindi bisogna fare uno sforzo comune, ecco perché noi abbiamo detto se le risposte non dovessero arrivare o dovessero tardare non esiteremmo a mobilitarci come abbiamo già fatto. Senta c'è un'altra questione che è molto aperta ancora è quella degli ammortizzatori sociali, che riguardano i lavoratori l'SU Le Più, riguardano i lavoratori in mobilità e in deroga, insomma come siamo messi? Qual è la situazione attuale? Siamo messi male perché siamo ormai a giugno inoltrato del 2015 e i lavoratori nel migliore dei casi hanno percepito una mensilità relativa a gennaio 2014. È una situazione veramente paradossale, incredibile, non ci sono parole e giustificazioni perché questo è un sussidio che va a favore di migliaia di persone e delle loro famiglie che in questi anni, tutte persone che in questi anni sono state espulse dal circuito produttivo e che non hanno nessun altro tipo di sostegno al reddito. Non si comprende perché a fronte di impegni regolarmente sottoscritti e formalizzati con il governo sullo stanziamento degli ammortizzatori sociali ancora persistano ritardi di questo genere. Ora siamo alle prese con l'ennesima querelle che riguarda gli enti che dovrebbero provvedere ai pagamenti e di fatto siamo bloccati, tanto è vero che abbiamo preannunciato di nuovo mobilitazioni per la prossima settimana se tutto questo dovesse... Ma di quanti lavoratori stiamo parlando? Ma diciamo che la platea è intorno sui 27 mila, ma noi stiamo chiedendo non solo proprio per questo che vengano garantite le coperture economiche, ma che allo stesso tempo si avvii una forte fase di politiche attive che possa consentire la ricollocazione di questi lavoratori nel circuito produttivo. E' chiaro che se la situazione economica della nostra regione non si riprende tutto questo è più difficile, ecco perché come Cisle stiamo insistendo sul lavoro, sviluppo, la crescita, la legalità, il sociale, sono tutte questioni che si legano, che sono legate e su questo c'è bisogno di una forte programmazione, ecco perché prima si diceva il confronto. Ma sugli LSU e LPU secondo lei si arriverà mai a una stabilizzazione? Ma diciamo che sugli LSU e LPU pur in questo panorama di criticità sono stati fatti notevoli passi avanti perché come sappiamo dal 1 gennaio 2015 si è avviata la contrattualizzazione presso gli enti e quindi diciamo già quella fase di incertezza che c'era prima ce la siamo messa quasi alle spalle. E' chiaro che ora l'obiettivo non possiamo fermarci perché l'obiettivo è la definitiva stabilizzazione anche perché questi lavoratori ormai sono diventati indispensabili per gli enti che li utilizzano. Senta voglio vedere con lei delle foto quindi andiamo un po' più sul leggero dopo aver parlato di temi abbastanza importanti e caldi. Abbiamo selezionato qualche foto che la riguardano questa ecco dopo ne parleremo del porto di Gioia Tauro questa è un'iniziativa che avete fatto lì come ci si è il primo maggio a Gioia Tauro quindi avete dato forza e vigore a questa giornata. Noi pensiamo che veramente Gioia Tauro è il paradigma un po' della Calabria un'area una realtà di grandi potenzialità di grandissime potenzialità che allo stesso tempo presenta notevoli criticità un po' rispecchia proprio le condizioni della nostra regione. Noi siamo convinti che da Gioia Tauro passa gran parte dello sviluppo e della crescita della nostra regione. Ne parleremo tra poco assieme agli altri ospiti vediamo un'altra foto la vediamo insieme qua un altro tavolo insomma di lavoro sempre della CISL regionale. Ma qui diciamo abbiamo presentato la proposta di legge popolare sul fisco che ha messo in campo la nostra organizzazione la CISL nazionale perché questo è un altro tema fondamentale. dobbiamo alleggerire il peso il carico fiscale a pensionati a lavoratori dipendenti e fare in modo che ci sia un riequilibrio verso anche le fasce di popolazione che sono più abbienti e che potrebbero anche sacrificarsi senza con questo voler danneggiare nessuno e quindi in una direzione di maggiore equità per rilanciare i consumi in questo nostro paese. Altra foto che vediamo insieme ecco qui un'altra riunione insomma lei è sempre impegnato in questi incontri riesce a dedicare un po' di tempo anche alle sue passioni? Ma diciamo che per le cose che stiamo dicendo il tempo cosiddetto libero a disposizione è poco però diciamo quelle passioni soprattutto legate un po' alle attività sportive quelle nei ritagli di tempo. C'è un'altra foto che voglio commentare con lei che riguarda un tavolo importante un tavolo in cui si parlava di mezzogiorno di mediterraneo così vicino così così lontano un incontro naturalmente a respiro anche nazionale. Sì a Reggio Calabria questa è stata un'iniziativa recente da parte dell'associazione degli ex consiglieri regionali che come dire hanno toccato in questo convegno un tema importante fondamentale cioè il ruolo del mediterraneo diciamo nel contesto europeo e quindi come si inquadra anche la nostra regione in questa in questa ottica. Quindi anche qui grandi possibilità grandi potenzialità ma siamo a livello di proposte ancora poco espressa allora io so che lei è un interista un interista sfegatato diciamo che non è andata benissimo quest'anno per l'Inter. No l'Inter sono ormai un po' di anni che attraversa una situazione di difficoltà ha inciso sicuramente anche il cambio di proprietà. Ma quando è arrivato Zanetti il grande capitano qui in Calabria che Tanzaro Lecce era? No io mi trovavo fuori regione ci sarei andato volentieri anche perché Zanetti rappresenta veramente un simbolo per l'Inter e per i tifosi dell'Inter. Bene però so che ti ferà Juve. Ma io nelle coppe tifo sempre per tutte le scuole italiane. Bene grazie a Paolo Tramonti per questa breve antiprima ma ci vediamo fra poco per parlare con gli altri ospiti dei temi che abbiamo scelto per questa puntata. Quindi restate con noi tra pochissimo con Pubblica Piazza. Grazie a tutti.